ci stai intervistando e te sta scusate era caduta la linea la tv sta apre la tv oltre 300 camion tutto per il covid-19 mamma mia che emozione ragazzi è un'emozione unica onore a questi camionisti onore onore a tutti i camionisti del mondo lavorano per noi lavorano per noi vi raccomando restate a casa tutti restate a casa restate a casa restate a casa restate a casa sedesta come corrono vai a kislamendo guarda guarda v Antonio restate a casa restate a casa restate a casa restate a casa non ho ��lers in basso l'ospitale ha un'altra 300-400 camion forza, forza! ma chi parla malamente ai punticieli? è l'ospitale del mare tutto operativo, 300 camion tutto per il covid-19 Gianluca, i soldi non ne servono serve a restare a casa restiamo a casa che viene tutto con calma perché lo Stato si sta muovendo per noi cittadini forza! guardate qua, tutti con la luce accese è l'inno, l'inno italiano ciao Francesco Iacomino iniziano le danze ciao 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 pattigiano guarda come corre frate, guarda, sta forte c'è la voce c'è la voce c'è la voce c'è la voce vada ma dammi via si francese tutto quello che dici tu fanno che vogliono loro ma adesso lo Stato si sta muovendo si sta muovendo e rimaniamo tutti a casa non ve l'ha mandato o vi lamentate 300 camion tutti per il covid-19 mamma mia c'è tutto c'è tutto siamo dovuti stare ora mi ti cancellano ciao 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 non si vede vuoi chiudere la finestra mi piace ma ti la rompe ciao Davide no Fabiana non ce la fai aspetta Fabiana ma abbiamo andato a vedere Ciro si muove tutto si muove ma dobbiamo restare a casa bisogna restare a casa Fabiana vuole scendere scendere e vedi la vanca Ciro sono più di 300 camion ma 300 è importante e Amelia non lo so da dove arrivano ma c'è un macello credimi dove arrivano arrivano basta che restiamo a casa a a a a a a a a a ho fatto come ho di suonan non sono vai non è non è va va sono tu hai che hai non vanno a farci scaricare Lino prima di andare a farci scaricare la mia figlia prima di andare a farci scaricare per la mia figlia ci vanno a fare la roba per scaricare la mia figlia sta pure la televisione ah mamma ti stai prendendo in diretto il coppia ah è in diretto è la televisione o no? non ve l'abbiamo andata mangiate un risotto andate per piacere papà se arriva alla palla ci andiamo a fare un baccone alla ci andiamo a casa a casa Flavio non ti preoccupare non ci serve questa roba noi non sconfiggiamo questa roba e il medico sta in ospitali perchè c'è una macchina che è andata su una macchina se ne dobbiamo uscire restate a casa, vai diù restiamo tutti a casa abbiamo finito qualche cattigienico con un pallone state da casa cattigienico si è venuto bene facciate un corso concreto il più grande onore va a questi ragazzi a queste persone che hanno buttato il materiale fino a qua hanno arrivato fino a qua chi so ma non stanno arrivando è un'emozione unica credetemi credetemi c'è un macello perciò chiettere e chi mettere compagnia mi ha fatto quando la stessa fine ma è nata bello ricco proprio siamo qua noi siamo tutti chiusi in casa grazie a voi grazie a voi grazie a voi io forza Italia grazie a voi 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 e siamo tutti a casa che è importante kle è un'emozione a vedere tutti questi camion ma perché dobbiamo vincere dolore saluto al mio amico Pasquale Pessico Asquale complimenti per tutto quello che stai facendo Complimenti a tutti Le persone che stanno facendo la beneficenza E Tina penso che tutto la roba per il Covid-19 Che occorre per gli ospedali Per sconfiggere questa malattia Stanno aiutando a tutti Forza, forza, forza Questi sono diretti che sanno facendo Si scimita che faccio molto quanto Pasquale, qui è l'ospedale del mare E questi sono tutti i camion venuti dall'estero E tutto altro del mondo A portare materiale che serve per l'ospedale Ma sono più di 100-200 camion C'è polizia, stato, c'è televisione, c'è tutto Questo è l'ospedale del mare Emozione unica Spero di volerci bene tutti Anche dopo Non solo in dei momenti problematiche Ci sono sempre bene tutti Che siamo tutti uguali Oggi, ricchi o poveri Ci siamo uguali La squadra è una marea Sono 300 camion E noi stiamo sempre scemi Che le cattassate senza mascherina Ci sono sempre bene tutti Tutti Faccio fastidare questa coppia Ma l'ho già fatto bene Con i figli miei E per me Ammastato tutto quanto a casa Guardate, vicino là La scritta Covid-19 Sono da qui Sono da qui Stop al Covid-19 Questo è per L'ospedale che adesso stanno facendo Per le sale di animazione Ehi, te Ma dice lui Che stanno facendo la mia Senza le mascherine Senza niente Oh, non stai Stanno facendo la pubblicità Ma che se ne va Oh, via Guardate qua Covid-19 Stop al Covid-19 Adio E stiamo a casa Perché questa scritta Non la dobbiamo vedere più Siamo forti Tutti insieme Siamo forti Dio ci benedica Tutti Freghiamo Qua Mai tenuto 300 pozzoni Indiretto Vai Mai 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 L'emozione unica Via, via Ancora Arrivano ancora Non finiscono più Non finiscono più Non finiscono più Ma roba Io ti voglio dirci E dici grazie Conte Non cercate Sulla solda Che soldi Non so niente Tanti Sempre si muore Pensate a questa casa Ci vanno i soldi Più L'applauso è una preghiera Per tutti questi qua Che stanno portando i camion Che ci aiutano Guardate anche loro Sono emozionali Con i telefoni in mano A fare le riprese Stanno dicendo Forza e danni Applauso alla broce rossa Che sono sempre operativi Tira Non ti preoccupare Basta che siamo a casa Ti faccio vedere Come ne usciremo forte Più di prima Basta solo una bella preghiera Tutti i giorni Non abbandoniamo la preghiera La preghiera è importante Condividete Condividete questa diretta Condividete questa diretta Onore a tutti questi camionisti Condividiamo questa diretta Dio è grande Dice bene Peppe Grande Giuseppe Capuano Un bacio Dio ti benedica Bravi 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 Condividiamo Guardiù Condividiamo questa diretta Intanti Condividiamo questa diretta A te Raffaele Hai in giro lì Vai Raffaele Guardi Raffaele con la bandiera dell'Italia Onore a questa bandiera Onore a voi Bravi 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 forse Italia E' tutto medicina E' tutto macchinari Per il Covid-19 L'ospedale del mare Non condividiamo Solo le cose brutte Condividiamo pure le cose positive E votiamoci bene Oggi e domani E per sempre Non solo in dei momenti difficoltosi Condividete 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 tutti 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 Eccoci qua Ma penso è giusto Un tricento Proprio giusto Un tricento Napoli La voce E' tutto 2.000 persone in diretta, vai giù, è un'emozione che fanno cantando, fanno cantando, stanno a 2.000 e 3.000 lo saremo, non lo saremo vai giù, questo è la cosa che mi fanno queste sono le cose buone da condividere e non sai, vai giù o flesce, o flesce è bello figlio mio, ne usciremo a papà, dici forza Italia e che trauma stanno su bene sticchiatura, stanno a casa, vai giù è finito, un grazie a voi grazie 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 sono 300 camio e tutto materiale per il stop al covid-19 è è è è è è grazie 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 oh dai 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 diretta vado stop andiamo a mangiare dai adesso si va a cenare condividiamo condividiamo e vedere tg5 e non ballate malamente lo sto